Si terrà domani alle ore 19.15 il Consiglio Comunale di Ponte Cagnano-Faiano. La seduta avrà un solo punto all'ordine del giorno e dovrà approvare il masterplan dedicato all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi che sarà presentato alla conferenza di servizi che si terrà presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei prossimi giorni. La Sise si riunirà presso la Scuola Media Zoccola situata in via Sandro Pertini a Sant'Antonio.